Salve a tutti ragazzi, Antonio Cianci, raccata film per voi che mette da parte l'animo critico a favore di una presa di posizione. Sì, mi schiero. E sto dalla parte dei spettatori che sono rimasti entusiasti di fronte alla visione di Glass. 19 anni di attesa per uno showdown finale anticlimatico, gestito in maniera superba da un regista che ha imposto una sua personale visione, senza ritocchi, senza tagli. Shyamalan ha creato un universo cinematografico tutto suo, sue le regole, suo il metodo di realizzazione. Non si arriverà mai a un compromesso, bisogna sottostare ai tempi, ai modi di presentare dei lineari personaggi, alle risoluzioni a livello narrativo partorite dalla sua mente, con uno specifico scopo e una specifica causa. Questo Glass non rappresenta soltanto la perfetta conclusione di una trilogia, ma anche un testamento, una lettera d'amore ad un genere ben preciso, ovvero i cinecomic, portando avanti e rinvigorendo uno dei messaggi cardine del genere supereroistico, ovvero l'abbracciare il superpotere e trattarlo non come se fosse una malattia, ma un'estensione delle proprie abilità e della propria personalità. Shyamalan ci ha preso in contropiede, ma in fondo è il suo marchio di fabbrica. Dall'autore, regista di Unbreakable, cosa ci dovevamo aspettare? Un finale esplosivo con tanto di botte da orbi e palazzi che crollano? Sarebbe stato un controsenso di epiche proporzioni? Ma qui addirittura si sono contenuti col budget circa 20 milioni di dollari e gli attori non hanno richiesto un cachet troppo alto, proprio per portare a tutti i costi, a termine, questo progetto durato 19 anni e rendergli giustizia nella maniera più efficace possibile, puntando sul fattore psicologico, perché è quello il fattore da valorizzare in una trilogia come questa. Glass non è solo un testamento, una lettera d'amore, ma anche un trattato. Qui avviene il processo di rivalutazione, distruzione e rinvigorimento del cinefumetto in sé, della visione che si ha di questo genere, pensando che possa morire da un momento all'altro, ma in verità continuerà a prosperare. Vi sono dei personaggi specifici di contorno, non sto a fare nomi, non voglio imbattermi spoiler, che ruotano attorno a questo universo continuando a punzecchiare i protagonisti dotati di superpoteri, David Dunn, Elijah Price e Kevin Wendell Crumb. Protagonisti questi direttamente collegati con la visione, con la presa di posizione assunta dal regista indiano. I personaggi di contorno recitano in questo modo, ancora con la riproposizione delle solite figure, di spicco l'eroe integerrimo, la mente suprema, il pazzo schizzato e deviato. Credete di essere speciali ma non lo siete affatto e sono qui per dimostrarvelo. Ed eccolo lì l'elemento di disturbo, l'interruzione forzata, il taglionetto applicato ad un genere che tanto noi apprezziamo e acclamiamo. E queste figure secondarie di disturbo cosa mi rappresentano? Ecco, assumono il ruolo di hater dell'ultima ora, pronto a sparare sentenze e a gettare fango contro i cinecomic. Vi è un sottotesto lungo tutto il corso del film con tratti riconducibile alla nostra era digitale che ha dell'incredibile, dello sconvolgente. Come si fa a ritenere brutto un film come Glass? Nel caso vogliate esprimere la vostra più sentita e sincera opinione, vi prego di riportarmi insomma come risposta che cosa avreste voluto fare se foste stati nei panni di Shyamalan, perché io di mio mi sono fidato ciecamente del regista e non ne sono rimasto affatto deluso. Ma poi ad una conclusione di trilogia, come puoi pensare di riuscire a ritagliare del tempo per dedicarti ad un'aspra critica nei confronti di un certo sistema informativo e di determinate modalità di espressione. Per di più questa critica utilizzata come arma di distruzione di massa per abbattere la psiche degli eroi protagonisti e così già ti porti avanti con la trama, già definisci il secondo e terzo atto. Se fossi in un aspirante sceneggiatore io mi prostrerei di fronte a Shyamalan per questa trovata dannatamente geniale in grado di reinventare il genere. Glass è un film che dividerà parecchio, c'è chi lo ha capito e chi non l'ha compreso fino in fondo, tanto da stroncarlo. Non eravamo preparati a questo, Shyamalan lo sa benissimo ed è in anticipo sui tempi. Si è portato già avanti col lavoro, si allontana di prepotenza dall'industria remunerativa ma con troppe restrizioni e si affida al Jason Blum della Blumhouse Production, con quest'ultimo che si fida delle capacità del regista. Ed esce fuori un film con una partenza, un proseguimento e un atto conclusivo che è tutta farina del sacco di Shyamalan. Abbiamo un trist di attori, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy più Sarah Paulson straordinariamente in forma, ma sappiamo che fra tutti svetta McAvoy mattatore assoluto. Da menzionare anche Spencer, Treat Clark, mi sembra si chiami così. Comunque dal 2000 con furore, in Unbreakable, nel ruolo del figlio di David Dunn, qui ritorna e ci offre una performance squisita, succulenta, un vero talento naturale e meno male che è stato richiamato e qui si applica appunto la formula del talento, oltre la sostanza. Il talento del regista e sceneggiatore e degli interpreti di ritrattare il materiale di base e il funzionamento della trama. Ad esempio, vi sono 4, dico 4 di numero, location a nostra disposizione nel film, tra cui una fabbrica abbandonata e un centro psichiatrico, ambienti per lo più spogli, ma è il talento di cui vi ho fatto menzione che è in grado di innalzare il livello dell'epica e della poetica facente parte dell'universo dei fumetti e incentrati sul cammino impervio degli eroi caduti. E ragazzi, porca puttana, che film della Madonna Glass. Qui dentro i cianci il raccatafilm con la recensione di Glass ha finito, ho cercato anche di non andarmi a scontrare sugli scogli appuntiti degli spoiler, il rischio è molto alto, però comunque l'ultimo film di Shyamalan approvato a pieni voti, correte in sala a vederlo e poi ci becchiamo sotto nei commenti per pareri, confronti e opinioni. Intanto vi mando un abbraccio, carissimi seguaci da Raccatafilm, Ciao! Alla prossima! Alla prossima!